La ceramica italiana, protagonista di una mostra dal titolo Grand Tour, ospitata alla limonaia di Palazzo del Giardino, di Palazzo Corsini, in via della Scala a Firenze, fino al 6 giugno, protagonista appunto un viaggio nell'arte locale delle varie realtà italiane, una mostra itinerante che ha scelto come tappa Firenze. Questa è una delle tappe di questa mostra che Artigianato Palazzo ha voluto con grande entusiasmo presentare a Firenze, io sono fiera, di poter presentare questa mostra in questa sede per riconfermarsi come il soggetto tramite il quale si continua a parlare di artigiani italiani. Qua non si parla di design o di arte, si parla di artigiani, belle cose, che fanno belle cose, di uso comune. L'esposizione a cura di Jean Blanchet, Viole Maldi e Antipanzera, coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani. Centi di produzione della ceramica, depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli, dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e naturalmente alla nostra Toscana. Ma assolutamente imperdibili, diciamo, sono probabilmente questi gruppi, perché la ceramica è molto bella anche nella sua complessità e unità. Quindi sicuramente la ceramica popolare, sebbene paia, è la più semplice, è spesso la più contemporanea ed intrigante. E poi abbiamo alcuni pezzi iconici che provengono da città della ceramica, toscane in particolare, e trovo che siano molto interessanti. Grazie. Grazie.